ricerca dei centri crea per migliorare la tolleranza alla siccità del mais e del teff il teff è un cereale poco conosciuto in italia ma ha elevate proprietà benefiche facilmente digeribile molto adatto per la dieta di soggetti affetti da celiachia o anche diabete nella ricerca si valuterà la possibilità di trasferire la resistenza alla siccità di alcune specie a quelle che invece la subiscono in pratica saranno studiate delle formulazioni derivanti da molecole estratte da alghe e da biostimolanti a base microbica da impiegare come approccio ecologico per migliorare la resilienza dei cereali rispetto alla limitata disponibilità idrica il progetto iniziato il primo maggio scorso durerà 48 mesi